Dopo quasi sei mesi e ancora niente, tutto invariato. Parliamo della situazione che si è venuta a creare presso gli alloggi di edilizia popolare di via Giuseppe Vesco ad Alcamo, nella zona dove ogni mercoledì si svolge il tradizionale mercatino settimanale. Nei mesi scorsi eravamo andati sul posto e la tiratina d'orecchia agli ACP, Istituto Autonomo Case Popolari, ha generato soltanto un intervento di rattoppo, ma la situazione igienico-strutturale resta critica con cornicioni pericolanti, erbacce, scritte e muri e quant'altro. Siamo sempre forse peggio, non allo stesso punto, ed è vergognoso dopo un anno non avere risposta né dall'assessore né dal comune. Né dal sindaco, il comune, i carabinieri, che avevamo chiamato pure. Insomma tutti gli organi preposti non vi hanno risposto. Niente, assolutamente. E' assurdo, non si può continuare così. Allora, noi abbiamo deciso che se entro una settimana, perché a distanza di un anno non si è visto niente, anzi sono venute a peggiore perché hanno finito di rompere, hanno lasciato questo schifo di muri, dicono loro che sono fatti, prospetti da schifo, prospetti che se prima non vedono il morto loro penso che non si fanno vivi e noi non dobbiamo aspettare che muore qualcuno qua. Assolutamente. Siamo disposti a fare intervenire striscia la notizia. Forse qualcosa lo otterremo. Ecco, nessuna risposta, interventi non fatti o comunque fatti nella non giusta maniera, ma anche le erbacce che continuano a crescere, questa fonte di mancanza di igiene. E' una cosa evidente, non è che posso dire che è una cosa che stiamo inventando. Se noi ci accomodiamo dentro, vediamo pure quello che c'è. Scarafaggi e insetti di ogni tipo la fanno da padroni e intanto sui muri delle scale continuano ad allungarsi i lineamenti. La situazione è divenuta insostenibile, come continua a descrivercela la signora, piuttosto arrabbiata per le continue promesse non mantenute da parte degli organi preposti, ma la stessa rappresentante dei condomini lancia una contropromessa e questa, crediamo, sarà mantenuta. Io dico all'ente autonome e classe popolare di Trapani, gentilmente, che mandino persone competente a realizzare questa manifattura di questo edificio. Gli interventi che ci vogliono. Gli interventi, perché siamo disposti a non pagare più casa e poi vediamo se ci buttano fuori. Siamo disponibili a non pagare più casa. Perché è assurdo, noi paghiamo, ma che cosa paghiamo? Se poi non ci dobbiamo ritrovare tutti quelli scarafaggi là. Praticamente pagate ma non avete i servizi minimi e essenziali. Non siamo soddisfatti del nostro pagamento. Non siamo soddisfatti, mi dispiace, ma devo agire in questa maniera sia per me che per tutti i miei condomini. Io non parlo per me sola, io parlo a nome di tutti i condomini. È assurdo, non è possibile. Noi paghiamo, e profumatamente. E anzi, sono la prima a telefonare quando non arrivano i bollettini. Perché io voglio pagare, però voglio essere pure soddisfatta. Non agirci in questa maniera. Proprio ci disprezzano. Perché? Perché abitiamo nell'ente autonoma in casa popolare. No, assolutamente. Non è giusto. Continueremo a seguire la vicenda sperando che vengano effettuati almeno i lavori di primaria importanza. Grazie a tutti.